Bella vecchi dramani, siamo i Granals e siamo tornati con un nuovo pack opening qui sul nostro canale Perché gli ultimi due sono andati bene? Perché non deve andare bene anche questo? Perché? Perché non dobbiamo trovare qualche Toz? Ma oggi la cosa bella è che c'è questo Ci sono i pacchetti speciali da 100.000 crediti Incredibili 24 giocatori, tutti oro e rari Ma li spacchettiamo Toz E prima ci facciamo prima questi qua I'm a Trump, ma lo fa capo Ci понравisco есperiamo Ohen� Edete identities Unico Vediamo Troveremo qualche Toz o oughts Oggi Troveremo qualche Toz Uh ci ho gridato pure te Usi, però è una pezzi, è un bugganissimo Vai, provi un pacchetto premium Navy Fam 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 Football 2015 Toz Credibile Distin Destin, 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 Destin Diage, pastore, attenzione, 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 ci sarà, c'è me lo sento, me lo sento, c'è, eccolo, boom, urk, Gerard, applausi per Gerard ragazzi, una leggenda, una leggenda, giusto Gerard, il migliore, ma bisogna avere pazienza, uscirà, il Toz uscirà, pazienza ragazzi, pazienza, Abbiati, Elton, John, Roman, Martins, Indy, Hatsu, che cazzo, che cazzo, facchietto, alava, 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 alava che non è la figna quello che cazzo che vuoi quello era gratis ma si ma vai ma siamo tutti i amici ma siamo tutti i amici ce sta credibile Coleman colipied è in gran portiere Coleman colipied mamma mia dai che loce svein svein dai che stai bugato dai che stai bugato da modulato Messi dai lei si do santos è bancher se sta lo apriamo vai ev bleedata è andata oh il sacrileggioso silenzio la caldana di palle magica allora ragazzi questo è un momento magico ragazzi ragazzi ma no non iniziale vai vai attenzione Attenzione, ti prego, ti prego, daccelo Che palle Ma che cazzo abbiamo trovato, regà? Ma che è sta merda? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ecco, muo esce, muo esce dopo quello, c'è sta C'è sta, c'è sta tutto E poi esce Miranda Miranda Oh Ma io quanto odio scritto C'è una vocale in tutto il nome Mi ha un po' fastidio Invece è fegulì che c'ha più vocali Che c'è più personale Vai quei soldi, vai No, troviamo un tozzo, dai È ora di trovarlo, dai, abbiamo scappato Abbiamo sbacchettato 200.000 È ora PAYEE PAYEEIF Che cazzo Mamma mia Lo sapevo che c'era Oh, ammazza che bestia Guarda, questo vale in botto, non lo sento Vale in cazzo Si, si, è arrivato Si sono aperti i canali della droga No Cruel 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 Si, c'è, c'è Sta arrivando l'inverno Aia, mi sta riuscita a puntare la zegna C'è Oh, c'ho Contiene il doppio dei giotti del pacchetto aereo premio Trattore un extra raro Ma quanto cazzo stanno gli extra rari Ma che cazzo sta da dire Mi sono stati così, i contratti Ma non lo stanno Ma non lo cazzo stanno Non al digno Che se lo trovavi qualche anno fa Eri il più ricco dei FIFA Ah Ti continua Un milione ragazzi Un milione Un milione Un milione Oh, c'ho partito Oddio 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 Vai Mamma mia Jackson Martinez Jackson Martinez Oddio Oddio Magari mori E tatatata E tatatata E tatatata Oh, Jackson Martinez Porca 87 Mortacci Porca puttà Che l'ha trovato te Sì No Ma cazzo Ma sì, ma che ci frega Siamo tutta una famiglia qui Oh Inizione Oh Casiglia Vediamo, vediamo Vai, vai Ce la sentiamo buona ce la sentiamo un po' Jackson l'abbiamo trovato ho lasciato troppo che ho lasciato troppo? oh! il gervinio! mamma mia! 93! vorrei anche morire attenzione non lo trovo lo trovo, lo trovo, lo trovo magari eccolo un bel Ronaldo è qui oddio bravo, bravo, mazzalo guarda che cazzo hai trovato eh però quando è sto a Barcellona c'ha creduto no, non so come te che pure se ne fomenta per madier è arrivato il momento quello da 100.000 ecco io voglio trovare 3 toz che entra a questo tanto via 3, 3 ne voglio ne voglio 3 3 c'è tanto se trovi qualcuno 3 vai che faccio le troviamo uno non raro 3 ci sono 3 guardalo fidate guardalo fidate ragazzi per questo vaccinating è finita ci lasciamo gli ultimi 500.000 per un altro vaccinating Jackson Martinez direi che è accettabile possiamo chiuderla tranquillamente con la coscienza a posto si continua ragazzi valore 500.000 ci siamo presi ci siamo rivati i soldi si e poi con l'IF quindi abbiamo anche superato l'abbiamo fatti anche di più dai che così lasciamo 10.000 like ci sarà un prossimo vaccinating con gli altri 500.000 da spacchettare noi vi vediamo al prossimo video bella ciao a tutti